Ha già preso forma il palco nell'area verde dell'impianto AISA di San Zeno. Sta infatti per arrivare la settima edizione del Warehouse Decibel Festival con un ospite d'eccezione, Max Cazè. L'artista sarà in concerto con il suo Scendo in Palco Tour sabato 5 settembre. Questo concerto attesissimo, gratuito, con pronotazione obbligatoria, che è andata via in poche ore, appena uscite le pronotazioni. È un appuntamento molto importante per Arezzo, è la settima edizione del Warehouse Festival dentro il progetto Zero Spreco. In quest'estate, in questo anno così difficile, comunque riusciamo a fare un evento importante con la massima attenzione e la massima sicurezza per le persone. Quindi con le serie, distanziati, con i controlli di accessi. Però arriva un artista importante e anche lui festeggia tanti anni di tour, un ennesimo tour anche per lui complicato, però arriva con la massima energia in una scaletta che farà pezzi storici, pezzi nuovi e quindi è un appuntamento veramente importante per tutti. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto Zero Spreco di AISA. Questo è un anno veramente particolare, anche noi siamo rimasti sufficientemente sorpresi. Però non vogliamo smettere di cercare di portare la gente a rendersi conto di questa realtà industriale, che nel 2017 diventa R1, quindi praticamente a recupero come i più moderni impianti, appunto, nord europei. Termina il fatto che col solo incenerimento si potessero risolvere i problemi dei rifiuti. Si va verso il recupero totale, anche come è scritto nelle autorizzazioni che la Regione Toscana ci ha rilasciato, per tutto quello che è il progetto di implementazione, ovvero rispondere alle necessità di trattamento, recupero di energia dai rifiuti della provincia di Arezzo. Quest'anno, nei primi 15 giorni di settembre, ovviamente nel piano rispetto delle norme Covid, abbiamo deciso di ripartire e di rifare un po' anche quello che abbiamo potuto fare durante il lockdown. E quindi abbiamo, oltre che il 5, abbiamo il 9 mattina una gara, la chiamiamo gara dei giovani cervelli, organizzata insieme alla collaborazione della 4 novembre e della Vasari, in cui qui sono invitati tutti, ma proprio tutti i ragazzi che entreranno in seconda e in terza media, per fare una mattinata di divertimento e anche un po' di studio. Poi dopo, invece, il 13, quindi domenica, prossimo, Fabio Sinatti, insieme alla sua Unione Polisportiva Policiano, organizza la solita gara della Valdichiana, la camminata della Valdichiana, che lui non ha potuto fare ad aprile e che ha voluto riproporre quest'anno. Contemporaneamente apriremo anche, vi sarà l'inaugurazione per il primo reparto, dell'ampliamento, del potenziamento dell'impianto di compostaggio. Poi, mercoledì 16, vi sarà invece la presentazione del bilancio sociale, in cui nel contempo parleremo dei risultati ottenuti dall'azienda nel quinquennio.